Fase decisiva nel marchiato in entrata del Perugia per l'ufficialità dell'argentino Tiago Casasola. L'esterno destro voluto da Castori è pronto a indossare la maglia bianco-rossa. Soltanto alcuni dettagli dell'operazione ancora da limare hanno ritardato il perfezionamento della trattativa. Ma è certo il suo arrivo a Perugia così come quello del difensore croato Stipe Vulikic. Un elemento importante per la difesa del futuro della Perugia nel settore di sinistra dove Vulikic si è messo in luce nel campionato croato. Il centrocampo è già stato preso in settimana il giovane Iannoni dall'ancola matelica ex salernitana. Mentre in attacco Giannitti è pronto a chiudere un paio di operazioni. La prima relativa al prestito dal Benevento di Moncini. Giocatore che Castori conosce bene per averlo avuto ai tempi del Cesena. A Moncini se ne aggiungerà un altro forte fisicamente pronto a fare parto da solo proprio come è nelle richieste del nuovo tecnico bianco-rosso.